Sai che l'HPV è una malattia sessualmente trasmissibile, lo è anche per via orale? Che dici? Magari sei pure quali sono le cause più comuni o i metodi per prevenirla? Sì, molto fa lo stile di vita che conduci. Intanto a 12 anni sia maschi che femmine possono fare il vaccino. Davvero? Sì, e quando fai sesso usa sempre il preservativo. Io sto morendo dalla paura, sono stata con molti partner. Allora io che bevo e fumo sempre sono spacciato. Voi siete sicuramente ad alto rischio. Sapete che l'HPV è un aumento, specialmente nei giovani che conducono una vita scatenata. Bere, fumare e andare con molti partner aumenta il rischio di contrarlo. Eh, ma io uso sempre il preservativo. Fai bene, ma sai che l'HPV lo può trasmettere anche tramite il sesso orale? Cioè mi stai dicendo che esiste l'HPV orale, e allora cosa dovrei fare? Preoccupati di fare il vaccino, di adottare comportamenti salutari, fai sesso anche orale sempre protetto, prenditi cura della tua bocca facendo attenzione anche all'igiene orale.